venditalia 2022 continua ci troviamo allo stand di blu pura l'azienda tutta italiana presente in gran parte del mondo ormai a poco più di 12 anni dalla sua fondazione un'azienda che realizza erogatori per l'acqua acqua depurata acqua normale acqua frizzante acqua sana debora scripanti è qui con noi la responsabile marketing finalmente debora dopo quattro anni dal precedente venditalia ci reincontriamo voi quest'anno intanto presentate un bel po di cose da dove partiamo beh direi di partire dalla più interessante la blu to go che è la nostra prima vera e propria vending machine la più completa ad oggi presente sul mercato perché non solo andiamo a vendere l'acqua fredda liscia gassata leggermente gassato e temperatura ambiente ma la vendiamo al bicchiere vendiamo la borraccia vendiamo la possibilità di lavare la borraccia quindi un servizio a 360 gradi che copre tutte le esigenze di chiunque abbia bisogno di idratarsi tuttavia non presentate solo questo perché appunto come dicevamo sono tantissime le novità che fanno parte del vostro pacchetto quest'anno quest'anno presentate anche e soprattutto un software gestionale per andare a gestire in modo estremamente dettagliato tutte le notizie che provengono dai vostri macchinari di cosa si tratta si e blu pura si presenta per ultima sul mercato del di chi produce impianti per l'acqua ma la prima presentare un progetto anche qui completo perché non solo offriamo una piattaforma iot dove monitorare i prodotti che hanno già questa tecnologia integrata ma presentiamo anche aiotti link aiotti link è il nostro dispositivo che permette di mettere in rete qualsiasi erogatore d'acqua che avete già installato sul territorio quindi potrete finalmente monitorare e controllare lo stato dei filtri dell'anidride carbonica e l'impianto stesso da casa e organizzarvi grazie anche alla geolocalizzazione per andare a fare la manutenzione ordinaria o straordinaria in base agli allarmi che riceverete per chiarezza quando diciamo una macchina già installata presso un cliente intendiamo anche magari di altre marche di altre di altri costruttori esatto la grande novità è che questa piattaforma non è solo per chi acquista blu pura ma è davvero per tutti abbiamo pensato a chi install e che deve fare il service che vuole finalmente organizzarsi su un'unica piattaforma siamo stanchi di accedere con password o login in qualsiasi sito web e salva di qua salva di là non ci capiamo più niente e quindi abbiamo deciso di centralizzare il tutto e darvi una soluzione che sia efficiente ed efficace ecco guardavamo gli scorsi minuti alcune immagini di quello che è il video che state presentando qui in fiera e che di fatto mostra le caratteristiche del software con tantissimi dettagli come è nata in voi l'idea di realizzare questo prodotto beh diciamo che la manutenzione dell'impianto è la cosa più importante che chiunque fa service deve tener conto e avere tutto sullo stesso portale permette davvero di avere una visione completa anche quando il cliente ci chiama dice ho questo problema analizziamo il prodotto e sappiamo prima di partire già di come dobbiamo organizzarci cosa dobbiamo portare dietro risparmiando davvero non solo sul viaggio ma anche su quante volte uno deve uscire senza fare più il sopralluogo debbora infine diciamo sempre nelle nostre vicinanze perché noi siamo in uno stand che è accerchiato dalle vostre attrezzature c'è questa bellissima macchina che è in grado di erogare non solo acqua depurata frizzante calda fredda ma anche e soprattutto con additivi naturali fatti di succhi di frutta esatto anche questo anche questa è l'ultimissima novità di blupura quindi ne abbiamo raccontate tre oltre a tante altre che ormai iniziate a conoscere bene è il primo prodotto nel quale è possibile non solo bere acqua ma anche succhi succhi refrigerati che possono essere sia lisce che gassate in base alla combinazione che scegliamo qual è il suo nome lujuis mi piace di giuis ci piace è un po come dire the band in television quando indichiamo vendin tv punto it e allora andiamo a salutare tutti loro indicando una casella di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto con voi per chiedere informazioni in relazione e alla macchina di gius e soprattutto al software che avete presentato oggi quello per la gestione dei macchinari si potete scriverci a info chiocciola blupura.com saremo lieti di rispondervi subito e noi saremmo lieti di parlarne nei prossimi mesi su vending news la rivista della distribuzione automatica italiana grazie per la collaborazione grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti